Come fai quando c'hai un bambino, un ragazzetto, qualcuno che ti rompe il scato e ti bombarda le cose, le domande, tu lo vuoi mandare via senza fargli del male, lo vuoi mandare via senza sgridarlo, che fai? Ti dai qualcosa di bello da fare, gli dai un giocattolo nuovo che non conosceva, gli fai vedere un film che gli piace tanto, giusto? Ma questa è la miglior strategia di marketing che puoi adottare anche su internet, semplicemente mandando via le persone dal tuo sito, questa è la strategia, mandali via, mandali via nel senso offrigli risorse, siti, eventi, personaggi, corsi interessanti che riguardano il tuo tema, ma che succedono da altre parti, non succedono sul tuo sito, mandali a vedere queste cose, mandali a scoprire questi film, questi libri, questi nuovi articoli che sono usciti, che sono tutti da altre parti, manda via le persone e torneranno da te indietro come un boomerang, perché? Ma scusa dai, abbiamo detto all'inizio, se io vengo da te, che ho bisogno di un ristorante strafigo, atmosfera e tutto, dove andare stasera a cena, e tu mi consigli un posto meraviglioso, che sta a 200 metri da casa mia e che io mai avevo sentito nominare, ma dove pensi che la prossima volta che voglio uscire a cena vado a domandare?